Un viaggio all'insegna della spensieratezza è quello di cui Elisabetta Gregoracci aveva bisogno dopo queste giornate difficili. Dopo la morte dell'adorata nonna Betta, la showgirl è volata a Dubai per coccolarsi nell'affetto di figlio Nathan Falco, che si trovava qui insieme al padre Flavio Briatore. Ieri sera poi, il ritorno a casa a Monte Carlo, dove vive, per tornare alla vita di tutti i giorni. Ma è stato proprio nel viaggio di ritorno che i follower non hanno potuto fare a meno di notare il lusso del mezzo su cui Elisabetta ha viaggiato, un jet privato color oro. Non è la prima volta che la, ex, coppia Gregoracci Briatore da sfoggio della propria ricchezza, già qualche settimana fa l'imprenditore piemontese, tra i più prestigiosi d'Italia, aveva mostrato il jet con cui si spostava durante i movimenti di lavoro. E ora a fare lo stesso è l'ex moglie Elisabetta. Il jet della conduttrice è color panna con inserti color oro e legno chiaro. Il sedile è confortevole al punto da poter essere reclinabile in modo da diventare un letto e, nella parte davanti, compare una televisione utilissima per poter ingannare le ore dei viaggi più lunghi. Gregoracci sceglie di guardare La Sirenetta, solo io in aereo non dormo? Ha scritto, ho visto il film La Sirenetta perché, quando ero piccola, ero convinta di esserlo. Questa mattina il ritorno a Monte Carlo. Ad aspettarla un bel mazzo di rose bianche, forse dono del nuovo fidanzato Giulio Fratini. Intanto il figlio Nathan, che da poco ha cominciato le scuole in Svizzera, è rimasto a Dubai col papà, padre e figlio hanno sfruttato le vacanze autunnali del ragazzo per un breve viaggio da godersi uno accanto all'altro. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.